Ciao, Peter. Come posso aiutarti? C'è un tipo della classe che sta per raffinare tutto. Peter, vado a difficoltà a sentirti. Potresti alzare la voce? Brad Davis ha una foto mia mentre... Brad Davis? È un bersaglio? Se Brad è un bersaglio... Sì, è un bersaglio, è un bersaglio. Ricevuto. Il bersaglio è Brad Davis. Dispongo attacco. Disponi cosa, scusa? Punto di intercettazione fissato. Rilascio veicolo uccisione. Oddio. Occhiali fichi, Parker. Come hai fatto a comprarli? Flash, ridammeli. No, no, ti sto facendo un complimento. Ti prego. Oh, scusa, fatto. Idisit. Non potresti stare, Brad. Peter, vuoi che annulli attacco con drone su Brad Davis? Hai dato un pugno a Flash. No. Fuoco. Questa, non è la tua strada? Inizio secondo attacco. Peter, metti il sedere sul sedile e allaggia la cintura. Le capretti di montagna? Le capretti di montagna. Ma non vedo nessuna capretta di montagna. Mi ha perso. Pensi che nessuno di noi se ne sia accorto, Peter? Cosa? Ma il tuo nuovo look? Mi piace. Vero, amore? Grazie. Sì, sofisticato, elegante e molto europeo. Porca miseria. Proviamo un'altra volta.